Pasquale Casale, finalmente una struttura a Cervinale che può accogliere più sport. Sì, grazie a tutti, all'amministrazione che ha portato a termine questo progetto e grazie anche alle associazioni che ci sono riuscite a mettersi insieme. Di solito si dice che è difficile associarsi, invece in questo caso abbiamo trovato unità di intenti per gestire questa struttura che è impegnativa e quindi grazie a tutti. L'ho detto, è il primo passo verso una mentalità nuova di cooperazione, di integrazione fra le forze e speriamo che questo sia di buon auspicio per questi ragazzi, per il loro futuro, che da questo palazzetto possano venire fuori un domani un campione come è stato nel passato. Casale, Starace, Parrillo, tanti nomi importanti, altisonanti che possono fare solo bene a questo palazzetto. Sì, sì, io ho sempre detto che nel DNA di Cervinale c'è lo sport, tantissimi campioni in tante discipline, non ci dimentichiamo anche dei campionissimi del ciclismo come Manfredone, Miele, è il Miele del rugby che molti si dimenticano che è stato nazionale del rugby negli anni 80-70-80, quindi mio padre che è stato un calciatore, altri interpreti di questo sport, quindi questo dovrebbe essere il primo passo per dare a Cervinale quello che poi è più naturale fare, cioè fare sport e farlo in maniera ottimale con le strutture e le attrezzature buone. Noi come società ci siamo, questo palazzetto che è anomalo per una squadra di calcio, però rappresenta un gioiellino per noi, siamo entrati in questa associazione di gestione proprio per questo, che pensiamo che nel calcio bisogna anche dare qualcosa di rappresentativo. Noi rappresenta un momento importante per i ragazzi, abbiamo la struttura del campo, abbiamo un'altra struttura a Via Quercino, quindi possiamo dire che in questo momento siamo forse la scuola calcio più con attrezzature e strutture adatte per i ragazzi. Speriamo che in futuro ci si possa ancora migliorare, noi come società e Cervinale come amministrazione facendo un campo più all'altezza della storia di Cervinale, che forse è l'ultima chicca che manca a questo paese.